L'emergenza sanitaria si dilaga a macchia d'olio e come una catena di Sant'Antonio gli appelli passano da un ospedale all'altro. Ultimo in ordine di tempo è quello del presidio San Giovanni Bosco dove qui i pazienti sono tenuti sulle sedie a rotelle per ore o in barella in fila per una visita. Una vergogna, urlano, che umilia i pazienti ma anche i camici bianchi che lavorano con turni stremanti. Se la provincia fa acqua con il Santa Maria la Pietà di Nola il San Giovanni Bosco di Napoli ha mai una bandiera bianca. Le condizioni in cui è precipitato il più grande presidio dell'area orientale con un'utenza di 800.000 abitanti preoccupano. Ci si scandalizza di Nola, dicono gli operatori, ma qui succede la stessa cosa. Anche da noi si visita ovunque, sulla sedia, sulle barelle, anche per terra se necessario. I pazienti che devono essere sottoposti a intervento passano di qui, rivela un infermiere, senza alcuna protezione, un percorso comune che manca di qualsiasi privacy. In più le barelle non riescono ad entrare nell'ascensore perché le porte sono troppo piccole e il malato da operare va preso a braccia. Non va meglio nel pronto soccorso chirurgico, lo spazio è più ampio ma comunque inadeguato alle esigenze. Ma degrado e precarietà non si fermano davanti alle scale che portano nei reparti di degenza. In medicina, in terapia intensiva coronarica, in neurochirurgia. Le immagini sono le stesse, muri scrostati e stanzoni con un solo servizio igienico per quattro pazienti. Da mesi l'ortopedia è chiusa per lavori, quando sarà riaperta nessuno lo sa dire.